Sono dei ragazzi che hanno bisogno di essere darguiti, devono capire che la cosa pubblica è pubblica ed è pubblica per tutti. Quando la maleducazione imperversa senza freni, piazza del simposio a Nanto, soprattutto di notte si trasforma in un'arena del cattivo gusto del vandalismo. Protagonisti è una banda di ragazzini adolescenti che incuranti dai richiami dei residenti si lanciava da tempo in gara con motorini sul nuovo campo da basket. Lordando ovunque, imprecando e bestemmiando a gran voce ad ogni ora del giorno e della sera. Sì, la segnalazione è arrivata dai residenti e poi più che altro anche dal nostro stradino che ogni mattina andava là e raccoglieva tutto quello che lasciavano. Sì, anche abbiamo messo dei cestini proprio a posto in modo tale che... Le pallonate alle porte e le finestre hanno lasciato il posto anche a vari tentativi di scasso le strutture pubbliche. Io ho anche lasciato correre per un po', no? Perché capiranno, dovranno capire, poi ho visto che praticamente non capiscono, no? E dopo l'ennesima volta che mi dicono, guarda che hanno sfondato una porta, ho detto, no, basta adesso, no? Esasperati anche dai continui sberleffi che i cittadini ricevevano dai ragazzini maleducati, i residenti hanno sollecitato il sindaco segnalando i fatti nel sito del comune. Il primo cittadino ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Verrà istituito un vero e proprio giro di ronda. I bulli sono avvisati. Passano, preveranno giro nota, devono capire praticamente che non possono fare quello che vogliono. Ecco, dunque di conseguenza un attimo d'attenzione, anche ai genitori è una cosa importante, no? Ecco, perché è inutile, non possiamo metterci il carabiniere, ok? Il carabiniere ha dell'altro da fare. Grazie a tutti.